Adesso io sono il salutatore, le volevo chiedere un caro saluto a tutti i suoi fan che la seguono da sempre. Un caro saluto a tutti i miei spettatori che mi seguono da sempre. Io la ringrazio come salutatore e le regalo la manina che è la mia del salutatore per salutare tutti quanti. E la ringrazio di tutto e di tutti i suoi servizi. Grazie, arrivederci, ciao.